musica bella ragazzi sono DarkestBepp e benvenuti al mio canale e benvenuti in questo gameplay di Black Ops e devo dire che è un gameplay veramente pauroso perchè ho fatto 70 kill e mi sembra quante morti? 6 o 9? mi sembra, adesso non mi ricordo bene perchè l'ho fatto parecchio tempo fa comunque eccomi qua sul canale io spero di esserci ancora per per molto perchè insomma come avete visto del blog che ho fatto l'altro ieri o ieri scusate ho mangiato come un porco suino comunque come avete visto nel blog ho detto che forse smettevo di fare video per colpa della mia ignoranza e stupidità a scuola comunque sono tornato adesso da scuola appunto sono uscito alle 4 e mezza e siccome ho visto che c'era tutto playstation, cuffie, televisore, computer mi è rimasto tutto, hdpvr anche ho pensato di fare questo video dove credo che sia un ottimo gameplay e soprattutto per dirvi che cosa cazzo volevo dirvi che partecipo al contest di depomers perciò questo video glielo invio a lui perchè è un gameplay che non ho praticamente mai fatto questo buon punteggio diciamo che più o meno più o meno è ai suoi livelli ho chiamato mi sembra tre volte tre o due volte o tre volte le ricompense e decisioni come cazzo si chiamano come cazzo si chiamano l'attacco fulminio come prima l'hotster che è fenomenale e il mezzo VTOL che è una bestia il mio parere meglio dell'unità K9 e comunque partecipo al suo contest questo gameplay io lo invio a lui tramite messaggio privato perchè credo che sia un buonissimo gameplay cioè a mio parere è buonissimo perchè io non faccio mai questi gameplay qua in base visto che c'ho una connessione di merda tanto quanto guardate dubbia non so che cazzo ho fatto comunque spero di farne altri spero farò dei live con i miei amici sempre che non mi disidiri via la playstation e diciamo che qua è andata molto di culo perchè mi... ho conquistato la postazione e mi ha dato 200 punti perciò sono arrivato alle uccisioni le serie decisioni molto alte non so come ho fatto lui un attimo però scusate ma tiro su perchè ho raffreddore ehm dall'altro ieri perciò datemi un anno scusatemi diciamo che è il periodo dell'influenza io ho ancora costo freddo gioca calcio perciò facciamo allenamento quando nevica perciò sono abbastanza raffreddato comunque è un gameplay in cui ho disputato con il PDV un'arma veramente bestiale e no non è il PDV no si si è il PDV e sta usando il merino laser e il silenziatore mi sembra si e come vedete qua ho chiamato il Vito l'ho fatta una strage veramente perchè gli spawn erano da una parte e dall'altra della nave perciò era abbastanza semplice prenderli però c'erano alcuni che mi rompevano i coglioni lanciando i missili però alcune abbastanza decisioni le ho fatte poi qua si nascondevano gli infami che si nascondono dentro la nave comunque ehm farò spero di rimanere su youtube raga ecco sapete che gli avevo detto che facevo la serie con con la webcam insomma mancano tre giorni alla fine della scuola e diciamo che e vorrei farmi vedere che mi impegno infatti io adesso sto registrando ovviamente senza che ci sia nessuna casa e ovviamente quando arrivano ehm farmi vedere che sono sono sui libri sperando che non non mi venga in mente di tirarmi via le cose proprio mentre io sono qua comunque ehm io spero veramente che non mi tolgano niente almeno fino a gennaio ehm almeno faccio questa serie che ho veramente intenzione di fare con ogni arma con la webcam e spero che vi piaccia e ovviamente ehm oh mamma non me la ricordo sta scena raga comunque ce ne erano di ce ne erano cinque e ho presi due comunque ehm io spero veramente che di riuscirla a fare questa degnata serie con la webcam perché ho veramente voglia di farla però ehm data la situazione scolastica e soprattutto quella che c'è in famiglia che sono veramente incazzati neri con me ehm io spero veramente di non che non mi tirano via niente e se la serie la inizierò purtroppo raga la inizierò settimana prossima perché voglio farmi vedere che mi impegno infatti almeno spero che nel periodo natalizio nessuno sia incazzato perciò perciò magari me la lasciano perciò adesso mi faccio vedere che studio intanto qua chiamo il lotster non è un'altra volta che è la seconda eeeh qua mi sembra che mi ammazzano mentre lo chiamo la notte perché c'era quello nemico comunque ehm io spero veramente di riuscirla a fare sono intenzionato veramente a farla e a farlo uscire anche bene perché ho molte ispirazioni per ehm farla venire bene eeeh boh io spero di farla per la quarta volta dico spero di farla ehm e niente raga questo qua è un video in cui oltre al gameplay volevo dirvi in questi 15 13 minuti che sono di video nella situazione in cui sono mi scappa da cagare perciò spero che finiscia presto perché ehm da quando sono andato a scuola che mi scappa da cagare siccome era in ritardo non sono riuscito a farla di mattina perciò da tutto il giorno che me la sto tenendo nel mio buco del culo perché non la io non la faccio a scuola perché prima è una scuola di voi non potete immaginare che 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 scuola sono capitato di casinisti e poi ovviamente i cessi fanno schifo i cessi fanno schifo le bidelle io non so che cazzo fanno però i bidelli c'è si fanno schifo adesso qua forse mi ammazzano mentre lo lancio sembra di sì sembra di sì almeno chiamo il lost mi sembra il vitol no 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 ce lo chiamo e niente raga ehm poi farò nel periodo natalizio come vi avevo programmato due video a settimana magari anche tre perché se mi lasciano la playstation nerd è come un porco e farò tre video a settimana di Black Ops con la webcam e spero di riuscire a farla il più presto possibile e anche due giorni forse forse adesso non lo so con FIFA 13 la scalata verso la serie A perché grazie ai miei compari di classe che sono Alessandro Gattoni che saluto e Simone Finazzi mi hanno consigliato di fare il come caso si dice la carriera d'allenatore e io insomma ho con un altro profilo che ho ho provato a farla l'ho iniziata per vedere com'era no perché non è che volevo subito giocarci ehm senza nemmeno provarla perciò ho fatto questa cosa qui e diciamo che è una cosa veramente bella e molto figa perché insomma rappresenta un l'allenatore che sei e ho iniziato adesso non non accusatemi adesso che sono Juventino cazzate varie ho scelto il Novara perché ho iniziato dalla serie B ovviamente perché sennò nella serie A non c'era gusto e sono rimasto sul senza disputare partite nel profilo di Darkest Beppe per aspettare voi cioè aspettare in realtà aspettare il momento buono per giocarci perché data la situazione non vorrei caldare danni ancora più più pesanti perciò voglio tenere a distanza la playstation in questi tre giorni e farmi vedere i filibri e niente raga quello che volevo dirvi ve l'ho obbiato e comunque niente non ho più argomenti da dire raga dopo questo video qua vedrete il casino che facciamo a scuola lo carico penso di caricarlo se voi questo video qua lo vedrete il 20 perchè lo sto registrando il 19 il 19 lo carico lo vedrete il 20 pomeriggio e perciò domani è giovedì mi sembra che magari entro venerdì riuscireste a vedere il video del casino che facciamo a scuola e niente raga io spero che vi piaccia questa idea che vi sto proponendo per voi con la webcam manca l'ultimo round io pensavo che era finita vi stavo già per salutare e niente difendete l'obbiettivo comunque ehm ringrazio un'altra volta the pub e arts che ma nel periodo in cui ero a mi sembra ho tanti iscritti ehm mi ha aiutato a salire con una fila di merda oh ma ragazzi ma mi devo ripigliare ma veramente e che quando avevo tanti iscritti ehm mi ha sostenuto molto ed è lui che mi ha fatto arrivare ai famosissimi 100 iscritti perciò le grazie di cuore io spero 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 di ehm riuscire ad attirare qualcosa che da lui per il contest perciò questo video lo vedete cioè io glielo mando come 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 cazzo si dice come messaggio privato per il contest ehm niente raga la partita finirà quando io sicuramente userò il lotter come mia spiga principale però c'è da dire che sono arrivato tre volte alle serie più alte delle della mia serie di punti adesso quando l'ho fatto non vado a cercare un anno però ho preferito andare avanti le serie vedete c'avevo tutto l'ho chiamato sono arrivato tre volte raga alle alle cose ma questo mi fa venire le cose perciò infatti quando vedete ho iniziato a sparare a cazzo perchè la partita stava finendo e niente questa qua la mia spiga sono riuscito a chiamarla tre volte la serie raga perciò l'ultima kill per le 70 comunque raga se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace se volete lasciate anche un commentino per vedere per darvi qualche consiglio se volete passate dal mio canale iscrivetevi e ci mettiamo al prossimo video bella raga è un ottimo lavoro in attesa di ordini